è il testo questo è il testo ma non è normale è il testo ho fatto il testo ripristrello ho fatto un testo non è nulla io ho fatto il testo senza il testo in un testo fa un testo ci sono le pressioni mi senti leggermente un testo Grazie. Grazie. Grazie.